ciao a tutti benvenuti o bentornati qui sul mio canale youtube per chi non mi conosce se io sono valentina in arte valley makeup lover e qui sul mio canale parliamo di beauty makeup e skin care a 360 gradi nel video di oggi finalmente proveremo la nuova collezione astra che si chiama first reaction love ecco prende questi tre pezzi e sono mascara duo lip and cheek e madame lip stylo de matte quindi vedremo come performeranno li vedremo ovviamente tutti in un video non potete perdervelo perché veramente prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come valley makeup lover anche su instagram e tiktok quindi se vi fa piacere venite a seguirmi anche lì e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi lasciate un like di supporto e soprattutto commentate perché mi aiutereste tantissimo con l'algoritmo di youtube ma come sempre ho parlato abbastanza iniziamo subito con il video eccomi qua con un look praticamente completo come vedete ho la base fatta gli occhi fatti e proveremo i tre pezzi della nuova collezione astra come vi ho detto a inizio video la nuova collezione si chiama first reaction love come primo pezzo abbiamo un mascara il pack devo dire la verità mi piace tanto perché ha questo rosa molto carino con le scritte viola e nere e ovviamente dopo vedremo anche il tipo di scovolino che cosa ci promette ho acquistato uno dei nuovi lip and cheek hypnotized che prendono il nome proprio dai loro rossetti iconici e il pack è praticamente identico questo è il pack come vedete abbiamo sempre pack in vetro il tappino in plastica e la colorazione che ho preso è la 03 che non è né troppo calda secondo me né troppo fredda perché avevamo se non erro 5 colorazioni le prime due mi sembravano eccessivamente fredde per me questa è una via di mezzo e gli altri due erano un pochino più calde e poi abbiamo i nuovi madame lip stilo de matte che ricordano ovviamente la versione de sheer con l'unica differenza che questi ovviamente sono matte e dovrebbero essere anche no transfer waterproof vedete l'abbiamo proprio scritto qua sul pack e anche di questa la colorazione che ho preso è la 03 nel negozio ho acquistato anche altri due cosine della linea pure beauty come vi ho detto ho terminato il correttore e l'ho ricomprato sempre la 02 e questa volta ho voluto prendere anche un'altra lip pencil questa è la numero 01 che sapete io adoro possiedo già la 03 e la 04 e questa sicuramente molto più scura sul marroncino come vedete quindi vorrei abbinarla magari al lip stilo che abbiamo comprato a questo punto direi di iniziare dal mascara vado sul sito e vediamo che cosa ci promette sono sul sito di astra ovviamente first reaction volume mascara assicura un effetto volume immediato e di grande impatto in una formula confortevole che dura dallo yoga mattutino fino all'incontro con il cuscino e può essere stratificato fino alle stelle perché lo amiamo volumizzante e nutriente la formula infusa di film former di ultima generazione che migliorano l'aderenza dei pigmenti intorno alle ciglia conferendo uno speciale effetto volumizzando lo sguardo inoltre la presenza di olio di argane olio di ricino garantisce il benessere delle ciglia con le loro proprietà nutrienti rigeneranti e ristrutturanti ciglie folte e lucenti la textura è arricchita anche da dipantenolo un nutriente della famiglia delle vitamine b è noto per le sue proprietà idratanti e come agente condizionante migliora l'aspetto delle ciglia rendendole più folte donando lucentezza e brillantezza effetto volume ad ali di farfalla lo speciale applicatore nell'astomero elicoidale aiuta a depositare la giusta quantità di prodotto su tutte le ciglia anche le più corte per un effetto estremamente volumizzato ma ordinato ad ali di farfalla long lasting 12 ore e se la prima reazione fondamentale è anche la durata first reaction volume long lasting fino a 12 ore per uno sguardo intenso e voluttuoso che dura tutto il giorno quindi diciamo che questo mascara ci promette tantissime cose lo scovolino effettivamente è abbastanza particolare e adesso ve lo mostro questo è lo scovolino come vedete in elastomero elicoidale effettivamente è a punta e sembra proprio che faccia una torsione su se stesso non so se notate e da quello che vedo effettivamente è bello premio di prodotto il mascara sembra molto molto nero e ha tanti tanti dentellini quindi ci aspettiamo faville astra perché già gli altri mascara a me piacciono tanto soprattutto il subliminal quello rosso e sono curiosa di vedere anche questo innanzitutto piego le ciglia si mi rendo conto di avere un look che avete già visto ma mi hanno chiesto il tutorial me l'ho dimenticata di registrarlo e adesso lo proviamo tenete presente che l'ho acquistato ieri oggi è domenica sto registrando di domenica perché ho avuto una settimana folle quindi lo sto aprendo con voi vedremo come sempre poi durante gli utilizzi come sarà la formula ho scaricato un po lo scovolino allora la formula è sicuramente nera perché la formula è nera non posso dire il contrario fa abbastanza grip il mascara però noto che la formula avvolge le ciglia ma non sta facendo grumi anzi la sta separando veramente tanto e le sta anche allungando quindi già questo ci piaccio lo sapete io non amo i mascara volumizzanti però già che mi dà la lunghezza è la separazione delle ciglia top con lo scovolino così piccino sicuramente riusciamo anche ad arrivare all'interno delle ciglia quindi nelle parti un pochino più ostiche dell'occhio questa collezione da quello che ho letto è proprio dedicata all'amore per se stessi che dobbiamo sempre ricordatevelo trovo anche comodo lo scovolino per le ciglia inferiori a questo punto perché comunque non è molto grande arrivo bene senza fare pastrocchi posso dire che mi piace perché effettivamente io vedo una bella differenza tra l'occhio senza mascara e l'occhio con mascara tenendo presente che ho fatto una bella passata le allungate sicuramente sono belle nere guardate cioè sono veramente molto lunghe molto lunghe stradi stricate sono proprio belle da vedere notate come la formula ha grappato per bene le ciglia senza però lasciargli quella sorta di grumetto strano che le infoltisce al troppo e vi dà l'effetto ragno non so se in camera riuscite a notare però guardate la meraviglia per dire che ha uno scovolino di questo tipo molto dentellato con diciamo dentini piccini piccini ho notato comunque che non preleva eccessivamente prodotto che vi raggruppa le ciglia ed è una cosa molto buona ora andiamo dalla mia parte sfigatella devo dire che anche su questa parte sfigatella non sta performando male anzi quindi questo è l'effetto su entrambi gli occhi con una sola passata devo dire che a me aggrada tantissimo anche così non ne farei un'altra però ovviamente per vedere quanto performa il mascara anche per chi piace dare più passate è giusto farle first reaction shock più che love quindi vado con una passata veloce voi ricordatevi questo step di farlo sempre quando il mascara è ancora leggermente fresco perché comunque altrimenti avete proprio l'effetto ragnetto perché si deposita il prodotto fresco su quello già asciutto non è un bel vedere infatti farò una passata molto veloce e questo è l'effetto su entrambi gli occhi con due passate che ne dite a me piace sono sincera è molto molto bello mi piace anche che mi renda proprio le ciglia nere 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 e non faccia grumi per dire che comunque ho fatto due passate le mie ciglia tendono a raggrupparsi purtroppo però mi piace proprio l'effetto sto sfumando ora velocemente un po' di contour perché mi ero dimenticata di applicarlo perché così proviamo il lip and cheek e vediamo un pochino l'effetto su labbra e guance diciamo che il lip in cheek mi piacciono perché talvolta potete giocare tra blush e rossetto se non avete magari di due brand diversi o dello stesso brand un colore di blush è un colore molto simile di rossetto per fare un effetto molto naturale tra viso e labbra secondo me questi sono la scelta ideale infatti faremo così proveremo il lip and cheek guance e labbra poi struccherò le labbra e utilizzeremo il madame lip stilo e vediamo l'effetto leggiamo adesso che cosa ci promettono il lip and cheek la colorazione che ho preso io come vi ho detto è death girl ed è un nude biscotto hypnotized liquid lip and cheek è sia un blush che un rossetto liquido la sua formula leggera e ariosa si fonde stratifica senza sforzo per un tocco di colore leggero e vellutato delicatamente diffuso sulla pelle per un effetto a prova di errore quindi questo è quello che ci promette per quanto riguarda il perché lo amiamo abbiamo un nuovo applicatore studiato per adattarsi a diversi utilizzi è perfetto sia per depositare la texture sulle labbra che sulle gotte prima di andare a sfumare con le dita o con un pennello finish matt a lunga tenuta quindi comunque sono completamente matte le cinque colorazioni regalano un finish delicatamente matte e garantiscono la lunghissima tenuta e il comfort che hanno reso hypnotized liquid lipstick famoso tra i rossetti liquidi quindi vi swatcho la colorazione e poi vi faccio vedere ovviamente lo scovolino quindi la colorazione che ho preso io è questa è rosatina come vedete non troppo calda quindi diciamo che ci può andare bene quindi una volta asciutto poi diventerà matte lo faccio vedere così altrimenti non me lo mette a fuoco questo è il nuovo applicatore ovviamente vi faccio vedere anche l'applicatore di un liquid hypnotized classico così capiamo la differenza quello della tinta labbra ovviamente più allungato vi faccio vedere ora questo è quello classico e questo è il nuovo vedete che più cicciotto rispetto alla tinta labbra anche perché comunque deve adattarsi al fatto che lo dobbiamo applicare sulle gote quindi avere un pennellozzo invadente non è il caso e secondo me è anche molto comodo per le labbra quindi direi di applicare poco prodotto alla volta così la profumazione è buona non esagero perché ho paura che sia molto pigmentato perché ovviamente non li ho provati ancora e sfumo con la blender perché ho queste texture lo sapete le applico così e vediamo scorrevole è scorrevole è molto particolare come texture è una mousse secondo me effettivamente è molto molto vaporosa non aspettatevi ovviamente l'effetto che ho di solito super luminoso perché questi sono comunque prodotti matte quindi è completamente matte e pian piano lo sfumiamo bello acceso per dire che non ne ho preso tanto è bello bello rosino ha una texture in mousse da quello che vedo però dovete essere un po' veloci a sfumarlo perché tende a settarsi non eccessivamente però comunque ve lo dico per farvi capire com'è il prodotto sicuramente con il pennello riuscite a sfumarlo un po' meglio perché comunque il pennello essendo più fitto riesce meglio la blender ha sempre quell'effetto un po' areografato ok mi avvicino sapete che mi piace molto l'effetto nonostante sia matte si è sfumato molto bene come vedete è proprio un effetto molto naturale tenendo presente che non ho utilizzato tantissimo molto molto bello vi ripeto secondo me è una texture che si fissa molto facilmente quindi dovete sfumarla velocemente però per gli amanti dei blush opachi secondo me anche dell'effetto naturale è una bella alternativa tenete presente che lo sapete a me non piace l'effetto haidi quindi non ne aggiungerò altro però sono stratificabili e da quello che vedo una volta stesi non sono neanche più appiccicosi per dire che comunque sono texture che potete utilizzare anche sulle labbra lo mettiamo anche sulle labbra e vediamo un po' l'effetto lo applico come se fosse un rossetto classico ok la formula è scorrevole sulle labbra secondo me è anche più scorrevole rispetto alle liquid hypnotized classiche proprio più più mousse l'applicatore è facile da utilizzare pensavo di magari trovare problemi invece no il colore mi fa impazzire cioè il colore bellissimo bellissimo qui potete vedete continuare a spostarlo da una parte all'altra non fa strisciate anzi la sento proprio vaporosa la formula lo lascio asciugare qualche secondo perché voglio vedere l'effetto opaco anche questi abbiamo no transfer e long lasting quindi diciamo che partiamo da questo presupposto è asciutta praticamente e devo dire che è ultra ultra confortevole sentite che avete comunque una texture sulle labbra però non è pesante e devo dirvi che forse mi piace di più anche rispetto alle mie amatissime ipnotized classiche presuppongo comunque che questa colorazione anche contornata con la matita più scura faccia un effetto bellissimo perché avete proprio questo effetto magari degrade quindi lo scuro all'esterno è il più chiaro all'interno adesso tolgo questo è un dispiacere però voglio provare anche il lip stilo matte contorno con questa matita e vediamo l'effetto appunto del madame lip stilo ok ho contornato le labbra ora vi faccio vedere lo swatch del rossetto e vi voglio anche far vedere ovviamente la differenza con i de sheer quindi questa è la colorazione del rossetto un po' verso il ciliegia ed è no transfer e diventerà totalmente matte come vedete i de sheer hanno comunque il pack più lucido e ovviamente le colorazioni sono satinate perché devono essere specchiate vedete la differenza è più un balm diciamo e adesso dal sito vediamo che cosa ci promettono ovviamente i matte la colorazione che ho preso io è folie caffè ed è legno rosa freddo madame de matte è un incredibile rossetto in stilo con la resa di un rossetto liquido la sua texture è unica e transformista morbido e cremoso in applicazione diventa una pellicola impercettibile ma aderente alle labbra che si fissa in un finish vellutato e opaco perché lo amiamo colore extra pigmentato il colore intenso estremo come una lacca fin dalla prima passata grazie all'altissima percentuale di pigmenti trattati presenti nella formula lunghissima tenuta idratazione la texture sia no transfer che a lunghissima tenuta e grazie all'aggiunta delle strato di foglie e fiori di malva le labbra si mantengono comunque estremamente idratate finish extra matte in sei colorazioni declinato in sei sofisticate colorazioni madame de matte lip stilo sconvolge le regole del make up labbra con la sua confortevolezza abbinata alla resistenza e alla resa del colore nel suo stratosferico finish extra matte arricchito da un delizioso aroma vaniglia quindi ci promette un sacco di cose il colore da quello che vedo nello swatch mi piace tanto ma direi di passare all'applicazione secondo me la copiata con la matita è top effettivamente è scorrevole non lo sento secco anzi non so se a voi queste colorazioni piacciono ma secondo me con look magari super naturali con un po di eyeliner anche questo bianco magari che è molto particolare le labbra così belle scure però né troppo calde né troppo fredde fate un figurone effettivamente si sta asciugando e sento che ha questa texture bella vellutata e vedremo comunque poi man mano che li proverò la durata durante la giornata e ovviamente anche se seccano meno le labbra però per adesso hanno una formula pazzesca bene siamo arrivati anche alla fine di questo video e devo dire che mi posso ritenere ultra soddisfatta tutte le cose che ho provato in questo video mi sono piaciute ovviamente una first impressions quindi come sempre mi riservo il parere di provarli più volte e dirvi poi che cosa ne penso però è stato tutto molto 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 positivo il mascara mi è piaciuto perché mi ha fatto delle belle ciglia vedo che comunque sono abbastanza districate belle allungate belle nere il duo lip and cheek mi piace perché l'effetto è estremamente naturale lo sapete io amo i prodotti in crema e avere anche un'alternativa ultra matte che si autofissa come questa secondo me è l'ideale anche per pelli grasse che magari per esempio d'estate non vogliono utilizzare polveri e possono usare questa alternativa perché comunque vi ripeto non l'ho neanche fissato ed è asciutto e per quanto riguarda le labbra devo dire che il madame lip stilo de matt è bellissimo la formula è confortevole e ultra matte quindi per chi piace il genere potete andarci a colpo sicuro ci sono tante colorazioni che possono fare al caso vostro e per me questa collezione al momento è super promossa come sempre vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like iscrivervi al canale mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi video anche per oggi è tutto io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video ciao raga